ah scusate ragazzi lo facevo più magro grazie mille per l'invito Umberto Durloni Patrizio Alzesi lo facevo più calmo anche se ha letto il labiale di quello che diceva sua moglie prima mi scusi non volevo no non è un problema è un vantaggio per il mio lavoro mia moglie Carla Molinari le acquisizioni spam dico bene è difficile che mi dimentichi una persona che mi ha creato dei problemi sul lavoro soprattutto se ho avviso come il suo quanti anni sono che non ci vediamo dieci otto otto anni otto anni non è cambiata per niente e adesso di cosa si occupa ma io Carla c'è tu una carriera nel campo genitoriale diciamo così è un po l'amministratore delegato della famiglia mi piace dire così in realtà sono una mamma una mamma a tempo pieno è sempre un peccato però perdere delle donne in camera nel nostro lavoro se cambiasse idea questo è il mio biglietto della visita mi chiami mi farebbe piacere Carla ha scelto di lasciare che sia io il professionista di casa allora lasciamo stare lei non vada via senza salutarmi ci tengo occhio che leggo il abbiale anche da dietro grazie a tutti grazie a tutti